Un tema che le ha posto è quello, e lo fa ogni volta con grande forza, di aiutare l'Africa. Il famoso piano Mattei e tanti altri provvedimenti ne ha parlato spesso nei vertici internazionali. Poi però, qualche giorno fa, il presidente tunisino Sayed, che vi ha ospitato e che sembrava avere un accordo con voi, ha fatto una retromarcia, una parziale retromarcia. Come ha preso queste dichiarazioni? Io penso che il presidente Sayed, sicuramente con un tono assertivo, però si rivolgesse prevalentemente alla sua opinione pubblica, dopodiché non dice niente di molto diverso da quello che anche l'Italia sostiene, cioè il rapporto con i paesi africani deve cambiare. Perché noi abbiamo avuto con questi paesi un approccio paternalistico, un po' come se ci sentissimo superiori, che non è il modo giusto per affrontare queste materie. Io credo che quando si lavora con queste nazioni lo si debba fare con rispetto, lo si debba fare da pari a pari, e lo si debba fare con un approccio che è quello di un partenariato strategico. Cioè noi non possiamo chiedere ai paesi africani, alla Tunisia, piuttosto che agli altri, vi paghiamo per fermarci l'immigrazione illegale, anche perché sono nazioni che a loro volta hanno questo problema. In Tunisia entrano ogni giorno migliaia di migranti che arrivano da paesi del sud della Tunisia, e se noi pensiamo di fermarli e basta, loro si ritroveranno un problema che io non voglio in Italia, e non credo di dover scaricare sugli altri. Per cui il punto è se noi siamo in grado di avviare con questi paesi una cooperazione che è a 360 gradi, che è una cosa seria, che è fatta di investimenti, che è fatta di mutuo beneficio, che è fatta di una crescita della quale beneficiano tutte le nazioni che fanno parte di questi accordi. Cioè deve essere un ragionamento diverso da quello un po' dall'alto in basso che a volte si è visto. Questo è quello che dice il Presidente Sayete, e io lo condivido perché altrimenti noi non affronteremo mai seriamente questo problema. Quello che non si capisce, ovvero che delle volte non si capisce abbastanza, e che noi cerchiamo di porre anche con la questione del piano Mattei, è che l'Africa non è un continente povero. L'Africa è un continente potenzialmente ricchissimo, che detiene oggi il 60% delle materie critiche strategiche, che ha una percentuale altissima di terreni coltivabili che oggi non sono coltivati, e che è un continente che potrebbe agevolmente vivere bene delle risorse che ha. Il punto è l'approccio che si ha anche con queste ricchezze. Io credo che la grande sfida europea, anche per accompagnare reciprocamente i nostri destini, sia portare risorse, investimenti, strategia e intelligenza, per consentire all'Africa di vivere di ciò che ha. E questo è l'approccio che può cambiare il nostro rapporto con il continente africano, perché le comunico che ci sono diversi altri attori che nel continente si muovono, e che si muovono con un approccio più facile di quello che si incontra con i paesi europei. Quindi c'è anche un tema geostrategico, che bisogna avere l'intelligenza di A.O. Perché gli altri ci sono già arrivati. Esattamente, e c'è un'urgenza. Quindi noi abbiamo lanciato il piano Mattei, tra l'altro siamo in dirittura d'arrivo con le norme che ci consentono una governance, perché vogliamo fare una cosa seria, faremo una bozza del piano, la condividiamo con i paesi africani, la porteremo in Parlamento. Chiaramente l'Italia non può affrontare da sola la questione africana. E quindi lo facciamo anche per spingere l'Europa e per condividere anche con l'Europa questa strategia. L'Europa mi pare che in Europa stia passando sempre di più questa necessità, anche con i nostri partner d'oltreoceano. Cioè si capisce oggi l'importanza del continente. Ma bisogna cambiare l'approccio. Perché l'approccio di dire, da una parte, ti offriamo delle risorse per fermare la migrazione, ma dall'altra non siamo sicuri che tu sia la persona giusta con la quale parlare. Non mi sembra molto così. È produttiva. Parlando anche di produttività, o comunque di conti pubblici, e di quello che sta per accadere nelle prossime settimane, ci sono degli appuntamenti. Comincia anche una certa fibrillazione sul fronte interno, legato ad un appuntamento elettorale, che arriverà poi nel prossimo anno, le chiedo innanzitutto sulla prima scadenza, che arriva a quella del MES, della ratifica o meno, che cosa prevede, che cosa intende fare il Governo, qual è la posizione del Governo? Guardi, la posizione del Governo è sempre la stessa. Io non ho cambiato idea sul tema del MES, ma le dico al di là di quello che si pensi nel merito dello strumento, penso che chi oggi propone, chiede di aprire questo dibattito, non faccia un favore all'Italia in ogni caso, che si sia favorevole, che si sia contrari, che lo si consideri una cosa bella, una cosa meno bella. Banalmente perché non ha senso discutere uno strumento se non si conosce qual è la cornice all'interno della quale quello strumento si inserisce. Cioè voglio dire, faccio un esempio facile, il MES richiama i parametri del vecchio patto di stabilità. Ora i parametri del vecchio patto di stabilità se tornassero per noi sarebbero oggettivamente un problema, per noi e per la stragrande maggioranza dei paesi europei, quasi tutti in buona sostanza. È evidente che non tenere in considerazione questi due elementi è un modo miope, se vogliamo, ideologico, il solito approccio ideologico con cui noi valutiamo degli strumenti che strumenti sono, con cui delle volte affrontiamo questo dibattito in Italia. Per cui io continuo, non ho cambiato idea sullo strumento, ma indipendentemente da questo, perché poi sono sempre una persona che guarda le cose con pragmaticità, io credo che questo dibattito vada aperto a valle di un ragionamento che noi stiamo facendo a 360 gradi, particolarmente sul tema della governance, senza il quale diventa proprio impossibile anche ragionare di uno strumento che si inserisce in questa dinamica e che va considerato con la dinamica. Quindi se posso sintetizzare, l'ha detto anche prima, nel meccanismo del patto di stabilità innanzitutto bisognerebbe rivedere alcuni investimenti estral charlin per armonizzare di più. Assolutamente, io penso che la questione degli investimenti, diciamo, per quello che riguarda il nostro PNRR, cioè le grandi strategie che si è data all'Europa, poi transizione vera, transizione digitale, difesa, io penso che se noi non consideriamo, diciamo, il valore che hanno gli investimenti che le nazioni fanno su questi obiettivi che l'Unione Europea si è data nelle regole dell'Unione Europea, insomma, sarebbe un atteggiamento francamente un po' miope, no? Quindi, io penso che questa sia la grande materia del dibattito, insomma, della trattativa sul patto di stabilità.